Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuto in questa nuova recensione eccoci qua con l'ultimo Biker Mice ovvero modo cioè pistone ovviamente il Cyborg Mouse allora ragazzi prima di andare a vederlo volevo dirvi due cose prima di tutto che mi sto attivando per realizzare delle basette create da me che molto presto metterò disponibili sul sito queste sono due colorazioni ma possono essere realizzate in qualsiasi colorazione molto solide ma poi ne parlerò in un altro video altra cosa ragazzi sono arrivate le Mezco questo lo apriamo oggi in live alle 15 trovate il link qui sotto in descrizione per la prima volta lo vedremo insieme poi lo porterò su youtube la prossima settimana ma confezione ragazzi eccola qui la solita potete trovare le ultime copie disponibili di questa figure sul mio sito Ara Shop nel link qui sotto in descrizione ma direi di non perdere tanto tempo andiamo subito a vederlo fuori dalla confezione ed eccolo qua il nostro pistone fuori dalla confezione bellissimo ma ma non è tutto oro quel che luccica comunque andiamo a vedere gli accessori ragazzi partiamo con le solite manine intercambiabili palma aperto pugno chiuso e poi chiaramente abbiamo quelle per il braccio meccanico sempre palma aperto e pugno chiuso ben realizzate painting opaco abbiamo l'hot dog eccolo qua fantastico e poi abbiamo la classica pistola super colorata e inoltre abbiamo l'accessorio classico e qui già la prima pecca niente di incredibile però ragazzi quello classico ovviamente quello originale del giocattolo sparava il colpo ora io non dico che dovevi farlo per forza sparante però almeno il colpo rimovibile potevi sforzarti a farlo in qualche modo potevi fare in modo che sparasse come hai fatto con sterzo bellissimo e per carità metallizzato però potevi sforzarti poi testa intercambiabile sorridente fatta veramente benissimo davvero splendida splendida e poi testa intercambiabile con casco altrettanto figa con finalmente il casco originale di pistone la prima volta che lo vediamo su una figure bellissima anche questo e ragazzi andiamolo a vedere più nel dettaglio ecco qua il viso base serio ragazzi è perfetto questo forse è il migliore cioè anche gli altri erano realizzati bene ma questo veramente mi ricorda proprio lui come se fosse uscito dallo schermo veramente incredibile poi tra l'altro secondo me questo a parte le preferenze il mio preferito come sapete è turbo ma ha il design proprio più figo rispetto agli altri con questa armatura poi i colori il braccio meccanico insomma ce li ha tutte lui è veramente spettacolare qui gli stivali anche fatti veramente bene questa combo di colori è veramente fighissimo qui vediamo il braccio meccanico e veniamo ragazzi purtroppo al problema veniamo al problema di questa figure ragazzi lui era contraddistinto dal fatto che aveva il braccio meccanico che si apriva e ve lo faccio vedere subito perché nel giocattolo ragazzi siamo nel lontano 1993 nella sua semplicità questo giocattolino aveva la gimmick del cannone apribile sul braccio che era una figata clamorosa e invece ragazzi purtroppo qui non si sono neanche degnati di fare una parte intercambiabile che magari appunto mimasse il cannone che si apre nulla il braccio è così sigillato chiuso non fa nulla questo ragazzi è un vero peccato questa per me è stata una bella delusione su questa figure perché me lo aspettavo sinceramente comunque già che ci siamo eccolo qua il confronto il confronto e in realtà questo qui era fatto veramente bene era uno di quelli con le proporzioni un pochino più azzeccate comunque le gambe corte però nel complesso era fatto veramente veramente bene poi ripeto ho fatto la storia le solite antenne richiudibili è il casco chiaramente che non c'entra assolutamente nulla con quello originale della serie che era questo questo l'hanno inventato per il giocattolo però questo resta comunque leggenda e intanto lui il cannone nel braccio ce l'ha articolazioni ragazzi allora testa molto molto mobile in tutte le direzioni l'apertura del braccio ottima notazione a 160 gradi notazione al bicipite articolazione doppia al gomito molto ben fatta piegamento al polso notazione al polso stessa cosa ovviamente anche qui non cambia nulla solo che qua c'è articolazione singola però ci sta piegamento ottimo del busto in avanti e indietro hanno un raggio questo in particolare un raggio veramente ottimo rotazione qui alla vita la cintura poi si alza è un pezzo separato piegamento della gamba in avanti piegamento all'indietro limitato l'apertura laterale praticamente massima rotazione ginocchio doppio fatto veramente bene pulitissimo piegamento del piedi in su qua quasi zero in giù molto meglio rotazione laterale della caviglia e naturalmente la coda articolata su sfera peccato non abbiano messo un filo metallico ci poteva stare come chicca ed eccoci qua ragazzi con le misurazioni dell'altezza e il nostro pistone è un bugger mice più alto del normale raggiunge tranquillamente i 19 cm contando le antenne quindi 7 pollici e mezzo e infatti eccolo qui a confronto con gli altri due più bassi in realtà turbo risulta ancora più basso anche di sterzo eccolo a confronto con una sage figure che sembra una minifigure la mafix stessa cosa marvel legends tiene un po' più banco e poi monnezza spider-man marvel select ed eccoli qua in tutta la loro figaggine con la posa tra l'altro per far vedere tutte le articolazioni sono veramente ottime e poi il braccio puntato con il cannone che non c'è e volevi puntarlo il cannone ma non c'è purtroppo comunque ragazzi a parte questo fanno veramente un figurone fanno veramente un figurone tutti e tre insieme sono davvero ben fatti comunque diamo i voti a pistone senza dare i voti poi nel particolare perché sono sempre gli stessi più o meno lui un voto pieno in meno se lo merita ragazzi gli altri due avevano preso 9 lui prende 8 è comunque fighissimo però ragazzi come fai a non mettere il cannone sul braccio dai ce l'aveva quello vecchio come fai a non mettere il cannone sul braccio non può essere questa cosa qui è proprio il tratto caratteristico del biker mais e tu non ce lo metti non dico di farlo realmente apribile va bene ci può stare non lo puoi fare fai un avambraccio intercambiabile aperto almeno un pezzo aperto che si mette sopra si toglie e si sostituisce qualcosa ti prego ti prego non così che peccato che peccato ragazzi abbiamo reciclito il biker mais fatemi sapere il vostro parere su tutti e tre nei commenti qui sotto io comunque nonostante le polemiche faccio i complimenti a nashel perché nonostante i difettini qua e là ha fatto uscire secondo me tre prodotti veramente di ottimo livello essendo un'azienda nuova tanta roba non era scontato fatemi sapere appunto il vostro parere con un commento qui sotto il link a video è sempre rettissimo così come anche la condivisione vi ringrazio sempre per la visione ciao d'ara da pistone trovate disponibili gli ultimi biker mais sul mio sito arashop nel link qui sotto in descrizione se volete ci vediamo in live alle 15 collezionate sempre qui sotto un'azienda nuova